Ciao, sono Michelle, ho 17 anni e sono orgogliosa di essere ambassadora di Milano Portino 2026 per il Virtual Youth Festival. Ho 17 anni, abito a Livigno, località che nel 2026 ospiterà le discipline di Snowboard e Freestyle. Fin da piccolissima pratico sci alpino, scelta fatta dai miei genitori che poi nel tempo si è rivelata la più azzeccata. Questo sport rifletta pieno alla mia persona e forse è per questo che tra me e lo sci alpino c'è un rapporto un po' particolare, è fatto di tanti sacrifici ma altri fatti di situazioni. Il mio sogno nel cassetto è quello di arrivare ai massimi livelli nella mia disciplina e farò il possibile perché accada. La strada è lunga ma l'obiettivo è ben chiaro.